Buonasera, buon sempre in giro, a questo giro siamo da West Custom, arrivano, ma non scappare, tu devi dire cosa c'è prossimamente, vai 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 vai! 14, 15, 16 giugno, Cuba American Day, a Vicoforte, mi raccomando, ma poi rompiamo con i maroni dopo, o sbagliati, giriamo la telecamera, giusto per, dov'è che è quello che lo fanno? Vicoforte, e cosa che fanno? Cuba American Day, perfetto ok, questo, adesso facciamo giro su altre macchine, se no mi chiudono, che ci sono parecchie, parecchie, ma facciamo una bella carrellata di macchine, andiamo dal Presidente, così ci fa, quanti metri ci sono? Vabbè, per un venerdì, sì, sì, cazzo, appunto, noi 50 mesi facciamo a American Day, giusto? Faccio una carrellata di mezzi, eh? andiamo dopo! buon dare! la stand in forza! guarda che roba, roba anche seria! Lei il Charger Generale! un bel pontiac Doge Master Oh bella l'antenne C'è parecchi mezzi Facciamo una carrellata su tutti i mezzi che probabilmente saranno poi da noi all'American Day Poi passiamo dall'altra parte Bello il Jeep Con il kit di rialzamento Bello il Jeep Ah questo qua è mezzo form Adesso cambiamo zona Andiamo dall'altra parte dei mezzi Poi abbiamo anche un po' di pin up Perché facciamo un giro con le pin up dopo Al mezzo di Totti No, ma non doge Totti non sa col Mustang Ram Ram Buongiorno 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 성을 Buongiorno bello il Cadillac, bellissimo camaro bella questa corvette con cabrio giro dentro, si può fare Pontiac strepitosa, bel GMC, cobra spettacolo, spettacolo sta cobra adesso andiamo un po' davanti cerco qualche mezzo di qua bel F100 corretto faccio un giro della macchina Z28 bel charge RT l'altra corvette bella questa spettacolare questa c'è un giro da dietro c'è un casting ride 454 bel big block questa merita eh sì big block facciamo un giro dentro nel locale ciao gente ciao ok ok siamo arrivati a mangiare cena ciao a tutti ciao 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 è solito ciao 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 Quanto che vuoi? Ciao gente alla prossima! A presto!